Musica Anche troppo Ok, eccola lì Allora, altro checkpoint raggiunto Allora, due, tre Quattro, cinque, sei Là ci sono dei barigli esplosivi Sette Oto, nove Allora Premi R2 per sparare i missili Va bene Oh oh, guardate che spettacolo Ok Siamo scesi No, sto scendendo Volevo fare una roba Esplodono quei barili là? No, non esplodono Ok, però Attenzione che mi stanno facendo fuori il robottone Allora No, questa no Ho sbagliato lanciarla Ok, un muro di schiuma Non mi serve più Anzi, sì, mi serve Mi nascondo qui dietro Ok No, si è salvato il tipo Questo qui è con me Posso passare esternamente di qua? Ma questi qui Ah, sono contro Caspita Ok, eliminato Mi prendo la tua arma Mi faccio il giro di qua Salgo su Mi faccio fuori questi qua No, 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 no Ok, eliminato Stiamo giù Stiamo giù Stiamo giù Stiamo giù Stiamo giù Ok, ho ricaricato Possiamo procedere Ok, è esploso tutto quanto Caspita Mi sta sparando Ok, muori Stavano sparando Da dove però? Da dove? Ok, saliamo di qua Ah, eccoli là Questo qui è con me Io passo esternamente Ce n'è uno là Ucciso Ok, è andato Andato Forse No, non è andato Ok, due, tre Esploso qualcosa anche là C'è un po' di gente Facciamo il giro di qua Questi qui sono con me Preso Ok Cosa dobbiamo distruggere? Aspettate però Perché non ho capito Cosa dobbiamo distruggere Ce n'era uno Qua dietro Uh, aspettate Vai, vai Con i razzi Pazzo c'ho le akimbo Ma con le akimbo Mi trovo Veramente male No, mi trovo Veramente male Datemi il fucile Normale Allora Saliamo di qua Ok, abbattuto Passiamo di qua Non stiamo troppo Allo scoperto Oh cacchio Ok Ah, non posso danneggiarlo No Gli sta facendo il mazzo Devo trovare un modo Per abbattere quello là Un bazooka Ok Ok, ragazzi Il robot è quasi andato Mi sa che ce l'abbiamo fatta Si, ce l'abbiamo fatta Aspettate che mi allontano Ok, è esploso Possiamo procedere Ok, speriamo Il nostro è qua Nell'angolo Ce l'ha fatta? Si Grandissimo Qui altri nemici Non ce n'è Pazzate com'è morto Questo qua Proprio comodo Comodo Dai, sfonda la porta Ok, grandissimo Che caspita Sta arrivando No, mi sa che non sono i nostri Infatti Oh mamma ragazzi Oioi Siamo leggermente nei guai Arrivata l'astronave madre Dell'SDF Guardate che spettacolo Ok, grazie Ethan Può correre Sì, vai Eh, hanno ucciso un po' dei nostri Accidenti Dai, veloce Ah, dobbiamo rifugiarci all'interno Arrivo, arrivo Vai, vai Vai, 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 vai Ragazzi, tutti qui dentro Tutti qui dentro Veloci, 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 veloci Il nostro robot Mi sa che Ce lo spazzano via Infatti Appena detto Ancora sto qua La tipa mi sa che è morta Restiamo qui in attesa del supporto aereo Negativo, dobbiamo prendere quella torre Lunez è morta Disanguata Andremo con quello che abbiamo Fino alla fine Questa è la sua valutazione Niente, non ce l'ha fatta Affermativo, signore Distruggiamo quella torre È la nostra missione Sì Sì, ma dobbiamo andare Ok Sì, ma non spingere Capitano Porti questo al sol tetto e ci copra Avvisi quando arriva Ok Allora, andiamo Ok Adesso che ci penso Mi ricorda un pochettino Killzone 2 Adesso che ci penso Di nuovo sto tipo Che stress Andiamo va Apriamo la porta qua Che casino Ok, sono arrivati i nostri Per fortuna Retribution Direzione 040 Adesso voglio proprio vederti Coach Attiriamo il fuoco del bestione Capitano Ok, grazie mille Massima prudenza Gator Non mi chieda troppo Capitano Uh, posso guidarlo pure io Perché ci hai messo Vai, 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 vai Usiamo il jackal Giusto in te Vieni, Ethan Come direbbero a Roma Famo iermazzo Ok Io sono prontissimo Ok Attenzione Attenzione che ti inseguono Dai, 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 dai Che lo faccio fuori Volevo distruggere quello lì Ok, è andato Allora Dov'è la torre? Cos'è che devo colpire? Ok Andato Facciamoli fuori tutti Facciamoli fuori tutti Andato Ok Forse ce l'abbiamo fatta O no? Ok Andata Ce l'abbiamo fatta Ottimo lavoro Torniamo alla mitragliatrice Ce n'è ancora uno Ok Andato Andato Ce n'è ancora uno qua Atterra sulla turbina Ok Tranquilla Ci penso io Ah ok Quadrato E se non me lo dici però Ok Dai Andiamo Mamma mia Erano tutti gli schierati Oh Questo qua è contro Sempre Ok Andati Facciamo un giro esterno Qua Ok Vieni Ethan Grande Oh Non mi devi dare il fucile in faccia No Mi hanno lanciato una granata Vogliono impedirmi di Entrare Ok Ok Abbattuto Mamma mia Quanti Ce n'è Ok Mi sono creato un muro Abbattuto Attenzione Continuano a sparare Morto Ora Ora Azione Quei comandi Ok Ok Li ho fatti fuori tutti Facciamo saltare anche la turbina Ce l'abbiamo fatta Io me ne vado eh Via 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 Veloci 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 Ti ammazzo Ma cosa vuoi Ma levati Dov'è Ethan Dov'è Ethan Dov'è Ethan Dov'è Ethan Dov'è Caspita Sei finito Ah Eccoti qua Grazie per l'aiuto Mi raccomando Ok Ok Vediamo come esplode Sta esplodendo tutto Sta esplodendo tutto Godiamoci Lo spettacolo Perfetto Mamma mia Che spettacolo Mamma mia Che spettacolo Porca puttana E vabbè Des Che esagerato E' una torre Hanno sbagliato a E' tipo una torre di Jenga Hanno sbagliato a inserire un cubetto Ne hanno tirato via uno di troppo Ed è caduto tutto Tranquilli Andiamo ragazzi Ok Andiamocene velocemente E si torna nello spazio Signori Per fortuna sono venute Dacci una mano Perché non ce l'avremmo mai fatta Eh che cacchio C'ha recuperati eh Incredibile C'ha recuperati Vai vai Veloce 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 Tutti sulla retribution A tutta velocità No 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 Ci stanno sparando Incidenti Ci stanno tirando giù No 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 Dai Hanno danneggiato pure me Vai 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 E che cacchio Sì bello Proprio contro la nostra nave 12 a 21 danneggiati Retribution Disingaggiare Retirata Segnali nemici Multipli Ci attaccano La massima potenza Aia E come facciamo Salta 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 Tranquilli E Eh vabbè Che sfortuna però ragazzi Sono senza ossigeno eh Non abbiamo più ossigeno Non abbiamo più ossigeno Capitano Capitano Finita ragazzi Capitano Eh finita Vediamo cosa succede Caspita Siamo finiti Capitano Reyes Si sta riprendendo Bene Reyes Apra gli occhi Ah mi hanno recuperato Lui è Brian Un medico della Tigris Dov'è Ethan Sono qui signore Siamo su una navetta Partita dalla Tigris La riportiamo Sulla Retribution Ah Ottimo Mi hanno recuperato In buone mani Aiutalo Ecco la sua nave In tutto il suo splendore Chi vi ha contattati? La tenente Solter Ha chiesto all'ammiraglio Di mandare una squadra Ma lui ha ritenuto L'operazione di salvataggio Troppo rischiosa Reyes Reyes non ha autorizzato Siamo in guerra Reyes Forse ho agito Per egoismo Ma non ho intenzione Di combattere Qui fuori da sola Ho preso un pilota Due avvistatori E siamo venuti Subito a cercarla Come hai calcolato La velocità radiale? Resistenza gravitazionale E un po' di fortuna Abbiamo forzato Le braccia di Ethan Erano congelate Stava proteggendo Il suo capitano Mazza Molto terrorizzato Non fare il modesto Atracco in cinque Grazie Ferran Ci ha salvato la vita Per un pelo ragazzi Ora non possiamo fare A meno l'uno dell'altro Veramente per un pelo È tornato a casa Il suo è stato un gesto eroico Un rischio calcolato Tenente Rientro subito alla Tigris Datele una medaglia Trattatelo bene Ma dai Reyes So badare a me stesso Ethan Vai in sala macchina E dia me che di sistemarti E tu Reyes? Non preoccuparti per me Non credo che ci riuscirò Solt Ho saputo Sei pronto? Sempre Ok Dai torniamo di là C'è andata veramente di lusso Però stavolta C'è andata veramente Veramente Di lusso Va bene Torniamo un attimo Nella plancia di comando Eccoci qua Ragazzi sono ancora vivo Signore Signore Ammiraglio Reyes In linea Reyes Come storia Come sempre ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Call of Duty Infinite Warfare Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio